Lo swing in Italia e in America, il rock'n'roll e gli shadows, l'era del beat, ma anche la musica acustica, l'hard rock, l'heavy metal e tanti altri generi. Ripercorreranno la cronologia della musica moderna, interpretata da alcuni tra i più significativi musicisti fanesi, gli otto concerti che si terranno allo scalo a Fosso 6 ore tutti giovedì sera dal 3 marzo al 21 aprile. L'iniziativa è nata dalla collaborazione di Paolo Casisa, autore del libro Fano Music Story, da cui parte il progetto musicale e la cooperativa culturale Commedia. Con la collaborazione di Commedia, della cooperativa Commedia e dello scalo di Fosso 6 ore, il locale dove si fa musica dal vivo, io sono direttore artistico di una serie di otto concerti dove la cronologia della musica moderna si esprime in otto appuntamenti dove suonano una moltitudine di musicisti iniziando dal 3 di marzo. Il 3 marzo comincia lo swing in America, si mette in scena lo swing in America delle grandi orchestre di Duke Ellington, di Count Basie, con Sabrina Angelini and the Golden Boys. Sabrina Angelini è una cantante di Milano che interpreta canzoni americane degli anni 30 e 40 come quelle di Billie Holiday di Dina Washington e così via. Gli appuntamenti si snodano per tutti i giovedì fino al 21 aprile e si passa attraverso il rock and roll degli anni 50, il beat degli anni 60, poi la musica acustica e il progressive degli anni 70 e l'heavy metal degli anni 80 fino al 21 aprile. C'è la possibilità di cenare allo scalo e alle ore 22 inizia il concerto. Invito tutti quanti a partecipare a questo evento perché è direttamente legato all'uscita del libro Fano Music Story perché tutti i musicisti che suonano in questi otto appuntamenti sono direttamente legati al libro perché le loro storie sono raccontate nel libro.